Una figura incredibile, Raffaella Carrà! Chi c'è stasera? Raffaella Carrà. Utilizzava un linguaggio del quale avevamo bisogno. Vado a Hollywood. Why don't you close the door? Mi fai tanta compagnia, io che sono sola. Rivoluzione. Toccarsi. Quello. Adesso si può. What do you lack most in a woman? Indefendible. Perché mia madre non me la toccherete mai. Qual è la posizione della donna in seno a questo mondo di povertà? Attenzione ancora tanto. Siete fantastici. C'era Raffaella Carrà da una parte, poi c'era Raffaella Belloni la nostra. Ma se lei non fosse la Carrà, chi vorrebbe essere? La Belloni. Raffaella Belloni. Grazie. Poi andiamo a chiun' dopo.